cari amici di youtube grazie a tutti quanti per i 750 iscritti oggi andremo ad aprire per voi scintille fulgorandi sperando di trovare pikachu ex e mi sembra latios o latias non mi ricordo bene quindi grazie ancora iscrivetevi e fate crescere questo canale andiamo a spacchettare eccovi qua cominciamo ad aprire questa bellissima blister di scintille fulgorandi primo pack mettiamolo qui secondo pack eccovi qua e per finire non abbiamo quello di pikachu e vabbè vabbè spero che porta fortuna per quello di pikachu intanto codicino per voi eccovi qua almeno un iscritto ci vuole per un codicino e la promo di guargesire non piace ovviamente codicino sempre nero eccovi qua codicino a voi un altro iscritto dai saliamo con gli iscritti fate crescere il canale abbiamo un energia base andiamo avanti ancora avanti si sentono suono di strano suono proveniente ma avanti ok campanello di servizio di indron e per finire abbiamo misa misa una bella cacchetta di cacchetta di togekiss mamma mia quanto è brutta ma vabbè comunque prima bustina un po' più in alto qua perfetto abbiamo cambiato un po' proviamo codicino ti fa il trick una carta in avanti è morto è morto una carta in avanti non lo so mi ricordo guardo si l'ho messo va a gira energia base verde togekissi va a passare il fratellino e avanti Qua c'è qualche cosa El Segator A meno I Raidon Blue Belt Swab Blue Vai No dai Ma che schifo dai Mamma guarda che schifo E ora apriamo l'ultimo L'unica speranza Di 0% Sì bravo abbiamo 1% Eccovi codicino a voi L'unica consolazione sarebbero gli iscritti Ma mi sa mi sa Ce le faccio io Vai C'è qualcosa Energia base Esca drill Andiamo avanti More lull C'è qualcosa C'è qualcosa C'è qualcosa C'è qualcosa Cosa c'è Ma che cosa c'è Non c'è una beata Pippa C'è qualcosa Non c'è niente Blister più Merdoso Di questo Non l'ho mai Trovato Ragazzi Vi regalo tutti quanti Queste cut Prendeteli Regalo Ragazzi